Palla fuori, si ripartirà con la rimessa laterale. Riconquistano la palla e possono attaccare. Arretrano il baricentro per invitare gli avversari ad attaccare e scoprirsi. Riconquistano il pallone. Va via il proprio marcatore. Può accorciare le distanze. Sventa bene questo dettativo il portiere. Caracciolo. Carica il tiro. Si oppone alla conclusione.